Allora questo è il mio browser, come vedete non c'è la barra degli indirizzi, non ci sono i tab, non c'è niente, è super minimale ed è bellissimo così. Si tratta di Arc ed è il browser che utilizzo ormai da mesi al posto di Chrome e oggi vi spiegherò come funziona, come funziona tutta la parte di layout che secondo me ha rivoluzionato, almeno per me, l'utilizzo del browser, di come è stata l'integrata l'AI in tante cose più o meno utili, ma una assolutamente per me fondamentale ed è una cosa veramente stupidissima ma che mi ha cambiato totalmente la vita e poi vi farò vedere anche la versione mobile che è una cosa relativamente nuova ma che rischia di cambiare per sempre il modo in cui utilizziamo i browser, quindi facciamo molta attenzione a quello che succede, tra l'altro è prodotto da The Browser Company, quindi chi meglio di loro? Vediamolo insieme, io come sempre sono Giuppi, bentornati. Partiamo subito guardandolo perché la prima cosa che si nota è che non c'è niente, è super immersivo, come vedete ho solo questa cornice ma manca tutto, dov'è? Dove sono i tab, l'indirizzo eccetera? Qua c'è la prima grande novità che introduce, ovvero abbiamo i tab laterali, in questo caso appunto ho scelto la modalità super immersiva perché secondo me è bellissima, ma volendo si può anche averla sempre di lato, però una grande novità è questa, i tab sono gestiti lateralmente, questo può sembrare un dettaglio ma in realtà è una grandissima cosa, io ci trovo stra bene, non so perché, ma probabilmente è unita a tutto il resto che vedremo adesso, cioè non hanno solo spostato i tab e reso questo nascosto perché non sarebbe a sta gran cosa, però è un modo di gestire la navigazione diverso, io ero abituato con Chrome ad avere milioni di tab sopra e basta, poi ci sono estensioni che ti rendono tutto molto più figo, raggruppano eccetera, quindi ci sono dei miglioramenti, in questo caso però si ragiona in questo modo, io ho qua i miei tab, ma in realtà sono in un certo space perché qua si introducono gli space, come vedete io ho diversi space e con una gesture posso cambiare space, quindi qua per esempio ho i siti diciamo miei personali per cazzeggiare, qua magari quelli con cui sto facendo il video e posso avere un sacco di altri space, quindi io riesco molto più facilmente ad avere un flow ordinato perché in un certo spazio apro solo i tab che mi servono, li vedo molto bene, scompaiono, quindi quando mi servono me li vado a vedere, leggo tutto quello che c'è da leggere e questo è solo l'inizio perché in realtà ci sono altre cose che poi succedono attorno a questo tipo di navigazione, però primissima cosa è che ha un'interfaccia veramente minimale, che mi piace tantissimo, e che quindi i tab non sono più lì a inondare la nostra barra, ma sono messi in questo modo e sono suddivisi per spazi, che tra l'altro hanno colori diversi, c'è tutta una grafica curata, però in generale si hanno degli spazi in cui si ha un focus su quello che si sta facendo. Dov'è la barra di navigazione? Allora intanto magari l'avete già vista qua, qua abbiamo una prima barra, in realtà però io lavoro in questo modo, Command T, sono su Mac, ma adesso c'è anche su Windows, ho aspettato anche per farlo perché era una prerogativa del Mac, adesso c'è anche per Windows, forse non per tutti ma ci siamo quasi, quindi con Command T mi si apre questa search URL in cui io posso o cercare oppure andare ad aprire un sito internet eccetera eccetera, quindi il mio Command T è quello che mi apre la barra che appunto appare solo quando serve. In realtà come vedete posso fare anche view, show e toolbar per averla qua in alto e avere quindi sia la toolbar classica che i tasti, ma onestamente ripeto non mi serve, quando devo usare la toolbar posso andare qua ma se no navigo appunto con Mantio, con Mandel, comunque con diverse scorciatoie. Andiamo avanti, intanto vediamolo anche dal sito, dal sito appunto ci dice che come è strutturata l'interfaccia, gli space che vi dicevo, quindi come vedete appunto poi è molto comodo e per questo che io utilizzo anche il trackpad remoto, questo qui per intenderci, perché ho un trackpad anche esterno perché appunto le gesture qua sono ancora più comode quindi non ho voluto rinunciare alle mie gesture e le uso tantissimo qua in navigazione perché appunto mi muovo tra gli space per avere ordine. Dopodiché altra grande cosa, la personalizzazione grafica, ma grande no, questa cosa non la uso mai, non è una cosa che uso però c'è una grossa attenzione. Ma poi ci sono delle chicche che mi piacciono tantissimo, vi faccio un esempio, allora vi faccio vedere per esempio questo è un articolo, un articolo di cui ho fatto il video, che però appunto come vedete nella home page presenta un sacco di caratteristiche che non mi interessa condividere mentre faccio la presentazione del sito. E abbiamo qua i cosiddetti boost, io posso andare qua e fare boost. Cosa sono i boost? È la possibilità di personalizzare la pagina, si possono dare tonalità di colore, si può andare a personalizzare la pagina, che in questo caso è una pagina che io ho utilizzato una volta solo in un articolo, ma come vedremo si può fare su siti che utilizziamo sempre. Quindi si può dare un aspetto grafico diverso al testo eccetera, ma anche interessante questo zap, per esempio questi elementi che a me non servono, tipo questo, via, questo non mi interessa, via, e mi vado a creare l'interfaccia come voglio io, perché questa poi verrà salvata, tant'è che oltre a questo zap magico che cancela le cose, si può anche scrivere del vero e proprio codice, sia CSS che JavaScript, qua l'avevo fatto, qua l'avevo provato a farlo, ci avevo giocato un po', ma potete scrivere le cose e vengono salvate, quindi una volta che voi su un sito vi create un boost, quel sito lo vedrete sempre così. Andiamo in boosts, come vedete, si può andare alla boost gallery, e si possono andare a scaricare boost di altri utenti, quindi altri utenti che personalizzano le pagine, che poi condividono appunto il loro boost, per esempio questo è un cute gmail, qua abbiamo un twitter grosso, non lo so, ce n'è di tutti i colori, io ne avevo provati un paio, soprattutto per YouTube, no YouTube short please, ecco il mio era minimalista così, poi ho visto che si è rotto, quindi dovrei aggiornarlo, perché ovviamente sono modifiche all'interfaccia, cambia il sito, l'interfaccia, il boost rischia di rompersi, però secondo me questa è proprio figa, figa come cosa. Quindi se volete creare un'interfaccia personalizzata ai vostri siti, con lo stesso CSS, o le vostre cose, la potete fare e cambiare la vostra modalità di navigazione, ma non è ancora finita. Quindi tutto quello che riguarda la navigazione, per me è cambiato in questo modo, ho appunto i miei spazi, in cui mi muovo con delle gesture, ho i tab laterali, a cui non riesco proprio più a fare a meno, cioè questo cambio di shift, questo shift dei tab da sopra a lato, che si può fare anche con Chrome, attenzione, ma immerso in un ecosistema che funziona così bene, per me è stato veramente un modo molto molto più facile per focalizzarmi, lavorare meglio, avere sotto occhio tutto, poi quando si finisce, ad esempio vado qua, faccio clear, mi chiude tutti tranne il corrente, posso decidere io, e quindi si ha un controllo che mi piace tantissimo, della produttività in questo modo, si hanno poi i preferiti, si possono mettere dei pinnare, si può giocare in tutto, e dopodiché l'interfaccia diventa davvero immersiva, cioè calcolate che io solitamente magari lavoro così a schermo intero, non ho nulla che mi ricorda di essere su un browser, ma quando ne ho bisogno mi sposto qua di lato, e ho attinenza a tutto quello che riguarda il browser, senza avere i milioni di tab sotto gli occhi, senza avere paura di perdermi, ecco non mi sono mai più perso come succedeva con Chrome, poi succede anche qui, perché i tab non sono mai abbastanza, ma molto di meno. Veniamo adesso a quella che è stata l'intrigazione con le AI, perché non poteva mancare, e qua ci sono delle cose di questo Max, che è la loro AI, che su me sono veramente carine, alcune no, sono semplicemente cavolate, ma alcune effettivamente vi sono piaciute tantissimo, per esempio, vabbè questo has con una page, allora se noi andiamo qua per esempio sempre sul nostro articolo, e faccio CTRL F, la prima cosa che fa CTRL F è cerca nella pagina, ma in realtà se non trova può cercare, tipo CEO di Nvidia, questo è l'articolo sul CEO di Nvidia, non trova nella pagina, ma posso chiedergli questa cosa, chi è il CEO di Nvidia? Vediamo che ci dice in italiano, io ho anche scritto in inglese, sull'articolo in inglese, ma decide che la mia lingua è italiana, probabilmente, secondo articolo, Jensen Wang è il CEO di Nvidia, l'articolo riporta le sue dichiarazioni, quindi che cosa ha fatto? Ha preso l'articolo, ha preso il contenuto, l'ha dato in pasto a un modello, e mi ha dato una risposta in base a questo, questo è molto figo, non lo uso quasi mai, è molto interessante, ma non lo uso quasi mai, uso molto di più un'altra cosa, che vi farò vedere dopo dell'AI, ma mi è fatta venire in mente quest'altra cosa, molto carina, che è l'anteprima di 5 secondi, vedete, ho cercato React 19 su Google, se io mi fermo per pochi secondi su un link, come vedete, mi genera un'anteprima, di quello che è il contenuto della pagina, andando a darmi solo le cose rilevanti della pagina, anche questa è una cosa veramente figa, che non uso onestamente, però è tutto gratis, tra l'altro, forse non l'ho detto prima, ma io non sto pagando per utilizzare ARK, un'altra cosa che invece è a pagamento, tra virgolette, ma che usa semplicemente già GPT, se io vado a cercare una nuova pagina, e scrivo chat GPT tab, adesso sto chiedendo a chat GPT, quindi se gli scrivo chi è il CEO di NVIDIA, mi apre chat GPT direttamente per chiederlo, ovviamente adesso il mio internet non mi permetterà di farvelo vedere, ma sta aprendo chat GPT con la risposta, una scorciatoia, quindi questa è proprio la cosa più banale che potevano fare, vedete che sta ha chiesto e ha subito la risposta, però è una semplice scorciatoia, ma la cosa più figa di tutte, che hanno integrato con le AI, è una cavolata, ma che giuro ha cambiato totalmente l'utilizzo di internet, dico solo questo, dunque siamo qua per esempio, c'è questa immagine, me la voglio salvare, facciamo salva immagine con nome, come vedete il nome file è il classico nome file, un po' così a caso, va bene, faccio salva, come vedete qua in alto, vedete c'è scritto download, rename, se andiamo a vedere qua sui download, che sono messi nel posto peggiore, come vedete il file adesso si chiama nvidia.jpg, perché ha preso il contesto della pagina, e ha rinominato il file con un nome sensato, questa a voi sembrerà una cavolata, forse no, forse avete intuito il potenziale, immaginate che scaricate un documento, un pdf, che ha tutto il nome a caso, ma lo scaricate dal sito dell'Inps, dove c'è la dichiarazione di salute, della famiglia, non lo stanno sparando, vi mette il nome più corretto possibile, questa cosa è bellissima, e ovviamente la potete annullare o disattivare, non è che per forza deve rinominare tutto, ma è una cosa che a me serve nel 85% dei casi, se non il 90%, quindi in questo caso l'AI analizza la vostra pagina, capisce il contesto, e rinomina il file che scaricate di conseguenza, è una cosa bellissima. Ci sono altre cosine dell'AI, se andiamo qua a scrivere appunto ARC Max, ci apre le preferenze di ARC, ci fa vedere tutte le cose che si possono avere o no, altre cose che non abbiamo, appunto i tidy downloads, sono quelle che vi ho fatto vedere adesso, lo fa anche con le tab, anche se onestamente non è che me ne accorgo, non che mi interessi, poi ci sono anche delle cose nuove, tipo Instant Links, che ti apre direttamente i top risultati di una certa ricerca, questo ti organizza i tab in qualche modo, non le ho provate tutte, diciamo che di tutte queste integrazioni dell'AI, il tidy downloads è la cosa che uso di più, sembrerà assurdo ma è così. Non è finita qua, con l'ultima cosa che vediamo, è una cosa che ha il potenziale per rivoluzionare ancora di più la navigazione, si tratta, mi ha portato qua sull'App Store di ARC Search AI Browser, che è in realtà un browser per un dispositivo mobile, l'ho provata, non l'ho ancora utilizzata abbastanza, è recente e non l'ho utilizzata abbastanza, ma come funziona questo browser? Quando voi cercate qualcosa, ARC Search vi creerà una vera e propria pagina web, con l'insieme delle informazioni che avrà trovato su internet, e messa insieme attraverso appunto un modello generativo di AI. Quindi non vi apre nessun risultato, non vi apre nessun elenco di pagine, vi crea una pagina con le informazioni che vi servono, utilizzando l'AI. Questa cosa ha un potenziale spaventoso, potrebbe non esistere più il web come lo conosciamo, ma solo dati sparsi nei diversi modelli, che noi poi andiamo a chiamare tramite il browser, che diventa poi tutto quello che ci serve, non per aprire pagina, ma direttamente per manipolare i risultati delle AI generative, non lo so, ne parleremo magari in altri video, fatemi sapere nei commenti se avete provato ARC Search, se l'avete utilizzato, io ho iniziato adesso, non so ancora, poi appunto anche le AI generative sono un po' agli inizi, però immaginate appunto di non dover più cercare su internet, ma chiedere a internet, quindi una specie di super Siri che va a creare contenuto con dati, video, immagini, tutto può essere generato, quindi non lo so, c'è tanto tanto da aspettarsi da questa tecnologia. Bene, l'ultimissima cosa è come mi ci trovo da sviluppatore, mi ci trovo benissimo, è comunque basato su Chromium, se non sbaglio, non me lo ricordo, a proposito di tempo fa, ma i developer tool, le estensioni sono tutte le stesse, quindi suppongo di sì, funziona bene, l'unica pecca che ha, che non so se è stata migliorata negli ultimi aggiornamenti, poi i newsletter raccontano un sacco di cose che forse consuma batteria, io mi trovo spesso in mobilità, non me ne accorgo abbastanza perché la mia mobilità è sì elevatissima, adesso sono su un balcone, però in generale una presa prima o poi mi arriva, quindi il mio computer la mezzagiornata in cui sicuramente sto scollegato la fa anche con Arc, ma probabilmente utilizzo la batteria meno ottimizzato e in più se è stato tanto tanto tempo, una sessione lunghissima, a me mi si è bloccato qualche volta, quindi ho dovuto riavviarlo completamente, non è una cosa che succede quotidianamente, però sicuramente ha anche dei problemi di gioventù. Detto questo mi ci trovo da Dio, lo uso per lavorare, lo uso per cazzeggiare, lo uso per qualunque cosa, quindi vi suggerisco di provarlo, adesso che è disponibile sia per Windows, che per Mac, come era inizialmente, la parte mobile è ancora un punto di domanda, ma potrebbe essere tanta roba, fatemi sapere nei commenti se lo utilizzate, se lo odiate, se utilizzate tutt'altro, avete consigli, come sempre sono molto molto attento a quello che succede, mi piace testare cose, quindi fatemi sapere, come sempre grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima.